Azione! Non ho dormito, non ho mangiato e ho anche mal di pancia. Guarda che non te ne puoi andare così! E poi se ci fate la scena! Grazie per la comprensione. Vai! Ti vogliono licenziare. Ti aiuto, ti faccio da spalla. Tu? Io. È il mio compleanno, mamma! Senti, segno! Senti, segno! Non mi puoi mica venire dentro così! Ma non ti sono venuto dentro, te l'ho chiesto. Vatta il culo! Ti non torno a pranzo, neanche a cena. Diglietto, prego. Ti faccio messa in pranzo. Non hai sentito parlare di endometriosi? O faccio un figlio o avrime una pausa. Secondo me sei perfetta. Ma anche io. Tutto bene, te? Vuoi dormire? Ho dormito. Si andrebbe bene andare a bere una cosa? A posto. A posto. Sono un'ormone, scusa, sono contenta. Il cazzo segno, perché te lo dico. Ma questa è tua grande, eh? Oh, noio. Sbagliatevi. Devo iniziare un percorso di psicoterapia. Guardate, se continui così, poi mi mando su. E sti cazzi ce lo vogliamo mettere? Mi servono le chiavi di casa, devo prenderle in casa. Io lo so che il cambiamento fa paura. Però la vita è il cambiamento. Riesci a dirci come ti chiami? Quante so, queste? Come è andato il provino? Che male, ho vomitato nel cestino.